Qui ci troviamo nel quello che è denominato Granghetto, ai piedi della città di Rignano, anche se siamo in territorio di San Severo, e quella è la zona che a febbraio e maggio dell'anno scorso è stata incendiata. L'8 giugno del 2017 ci fu lo sgombero ufficiale del campo, del Granghetto, e poi arrivarono le ruspe che pulirono tutto. E nel giro di appena sei mesi, guardate un po' che cosa è stato creato qui, in pratica un altro ghetto, si sono riorganizzati e lì dove prima c'erano soltanto le roulotte, quindi diciamo la zona residenziale, se vogliamo dire così, del Granghetto, adesso ci sono roulotte, baracche, case di fortuna, di tutto di più. Anche qui, come a Borgo Mezzanone, la zona è contraddistinta dalla presenza di numerose di scarichi a cielo aperto e di centinaia di auto smontate. Il Granghetto è nuovamente in espansione, ogni giorno vengono costruite nuove baracche. Qui le sistemazioni sono tutte di fortuna, guardate quel tetto, ci sono i pannelli solari perché qui chiaramente non c'è corrente, quindi cercano di alimentare quel poco di luce che hanno con sistemi di fortuna come questi pannelli o con le batterie delle auto e poi guardate, per cercare di tamponare evidentemente i buchi che ci sono sul tetto, ci sono questi teli di plastica e poi sopra copertoni, resti di biciclette, qualsiasi cosa possa aiutare a mantenerli. Ecco, questa invece è una cisterna per raccogliere l'acqua che viene portata qui dal comune di San Severo. Qui chiaramente non hanno acqua, non hanno luce, non hanno soprattutto riscaldamento e queste sono giornate freddissime, in questo momento fa davvero tanto freddo, non possiamo immaginare cosa sarà qui di sera. Guardate tutte queste bombole qui accatastate, è una situazione decisamente pericolosa. Nel ghetto troviamo anche una piccola moschea e poi ci sono luoghi di ritrovo dove i migranti si intrattengono e naturalmente anche qui diversi negozi. Guardate un po', è un piccolo negozio, c'è di tutto, pasta, olio, acqua, scatolame, anche prodotti per fare le pulizie, per lavare, poi legumi. Nel rinato Granghetto ci sono già diverse centinaia di persone, gente che in realtà di qui non se n'è mai andata. Perché siete tornati qui? Perché sempre io sono qua, anche prima. Prima degli incendiari qui? Sì. E quindi perché non venite andate di qua? Questa cosa io non lo so. Non lo sapevi dove andare? No, non lo sapevi dove andare. Aspetta, io sono occupato, la vedi? Stai giocando? Che giocare, guarda bene. Che stai facendo? Che cos'è? Non vedo, non sei rispetto. Che cos'è? Nella situazione precedente di figura? No. Ah, scuola guida. Bravo. Ok.